Senti, dobbiamo parlare. Certo. Ti ho scoperto. Cosa? Sì, sei una fasura. Non stai morendo. Scusa? Nella filosofia tibetana, nell'interpretazione di Silvia Platt, lo so che stiamo tutti morendo, giusto? Ma tu non stai morendo come sta morendo Clos. E allora? Sei qui per turismo. Chiaro, ti ho vista. Ti ho vista a melanoma, ti ho vista a tubercolosi, ti ho vista a cancro ai testicoli. E io ti ho visto esercitarti. A fare cosa? La predica a me sta andando tutto come speravi, Robert. Ti smaschererò. Fa' pure. Io smaschererò te. Abbracciatevi. Fate venire fuori le lacrime. Oddio, perché lo fai? Costa meno del cinema e il caffè è gratis. Ascolta, hai una cosa importante, capito? Questi sono i miei gruppi, li frequento da più di un anno. Ma tu perché lo fai? Non lo so. Quando la gente pensa che stai morendo, allora ti ascolta veramente, invece di... Invece di aspettare il suo turno per parlare. Sì. Sì.